La Galleria Seperdotè di Doro Catalani cerca giovani musicisti, pittori, cantanti, scultori, ballerini, fotografi, attori, poeti, scrittori, grafici o videomaker per giovani in festival. Il più grande spettacolo siamo noi. Rassegna che si terrà il 3-4 giugno alla Rocca Malatestiana di Fano. Un festival che nasce dall'idea di Doro Catalani di sostenere la creatività giovanile, offrendo supporto e visibilità alle nuove generazioni, creando uno spazio e un'occasione in cui consentire loro di mettersi in gioco e farsi conoscere. L'invito a coinvolgimento è rivolto principalmente, ma non solo, alle diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola con una proposta gratuita per i giovani per far emergere i loro talenti e la loro creatività. Gli asperanti partecipanti potranno aderire entro sabato 20 maggio contattando il 338 3051082 o il 338 3603584.